Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel romanzo storico dal titolo La sposa di Valle Argentina di Giovanna Barbieri, appena pubblicato da Landeditore. Sono 300 pagine per 16 euro, quindi un prezzo assolutamente accessibile, ma io come mia abitudine non rubo tempo a Giovanna perché voglio sentire cosa ci racconta di questa bella nuova avventura. Quindi a te Giovanna. Allora innanzitutto l'ho scritto almeno in due anni, due anni e qualcosa. Cioè ho dovuto pensare ovviamente alla trama che fosse verosimile con i personaggi. Alcuni personaggi sono veramente esistiti, altri li ho dovuti creare per il romanzo, per rendere un po' più avvincente il romanzo. Per esempio troverete Isabella d'Este e il marito Francesco Gonzaga nella corte gonzagesca del 1494, quindi siamo alla fine del medioevo, siamo tra il tardo medioevo e il rinascimento. La corte è già rinascimentale in realtà, anche se alcuni usi erano rimasti quelli un po' tradizionali ecco. E troverete anche Ludovico il Moro con la moglie Beatrice d'Este, perché nel 94 si è già sposato con Beatrice d'Este e troverete anche alcune, non molte scene, ma alcune della corte sforzesca, perché in realtà il protagonista è un soldato di ventura che è stato assoldato da una compagnia di Milano, quindi è per quello che l'ho ambientato in parte a Milano, perché lui dopo con la sua compagnia si unirà a Ludovico il Moro, ai soldati di Ludovico il Moro, per andare contro il regno di Napoli del 1494, quindi è un romanzo in parte di guerra, in parte d'amore, perché c'è anche una protagonista femminile che ovviamente non va in guerra lei, te lo dico già, lei è una classica, è una figlia di una cortigiana onesta che il soldato di ventura sposa, però lei va a vivere a Mantova, perché Milano viene occupata dai soldati francesi, lui ha paura per la moglie, diciamo che le suggerisce di andare nella corte di Mantova, che era più tranquilla, diciamo, c'erano meno soldati, i soldati all'epoca non è che si comportassero molto bene, soprattutto quelli di ventura e quindi insomma paura per la moglie e la spinge ad andare a Mantova, quando lui va in guerra, quando lui parte per la guerra insomma. Ecco, qualche curiosità? Sì, quindi un romanzo un tempo si sarebbe detto di capa e spada. In parte sì, in parte sì, perché c'è il punto di vista di lui che va in guerra, quindi la parte della marcia di questi soldati di ventura verso il regno di Napoli occupa almeno metà romanzo, l'altra metà è occupata dal punto di vista di lei che è a Mantova e quindi lei trova lavoro in una bottega artigiana di Mantova e alla fine, ovviamente essendo una storia d'amore, alla fine insomma non è che finisca male, ecco, però sono varie traversie che i personaggi devono superare, ecco, prima di arrivare alla fine. Tu come ti documenti per scrivere e ambientare i tuoi racconti? Allora, questo è stato abbastanza complicato, oserei dire, perché ho letto diversi saggi, tra cui ho la bibliografia qua per ricordarmi, ce l'ho sul computer, per esempio un saggio su Milano che era sugli Sforza, che è il racconto della dinastia che fece Grande Milano, si chiama, e di Mondadori e della Mondadori, oppure ho letto anche, per esempio, la dama con l'ermellino di Pizzagalli e anche proprio la signora del Rinascimento che era proprio su Isabella d'Este, sempre della Pizzagalli, altri più specifici, per esempio, sulla parte militare che è stata quella anche abbastanza complicata, perché il modo di combattere quasi del 1500 non è proprio quello medievale, che cambia la modalità di combattimento. Adesso ci sono molti fanti e ho letto, per esempio, Signori e Mercenari, per la parte, per rendere più verosimile la parte, diciamo, dei soldati di Ventura, ho letto Signori e Mercenari del Mulino e lì proprio si spiega come si svolgevano, come erano a soldati questi soldati, qual era la loro paga, in generale era abbastanza bassa, chiamato anche il soldo, la paga dei soldati mercenari. In più, per le strategie, ho letto, per esempio, uno di Barbero, che era proprio specifico sulla modalità di combattimento abbastanza moderna, quella, insomma, quella della, di quel periodo storico lì, che si chiama La guerra in Europa, da rinascimento a Napoleone, di Barbero, che era molto, diciamo che molto semplice da comprendere. Prima avevo le idee un po' confuse, perché non sapevo esattamente, non avevo capito bene, con Signori e Mercenari. Poi ho letto questo saggio qua di Barbero, è stato eccezionale e ho capito, è scritto proprio in maniera che anche una profana come me di battaglie riesce a comprendere, ecco, diciamo. Quindi guerra, amori... Guerra, amori, traversie e poi la mamma della protagonista è una cortigiana onesta di Milano e in realtà le cortigiane oneste non è che vivono solo a Venezia, vivevano in tutte le, diciamo che quelle più conosciute sono a Venezia, ovviamente, però tutte le corti ricche attiravano cortigiane oneste, erano donne colte che sapevano scrivere, sapevano leggere, scrivere, suonavano un strumento musicale, scrivevano spesso poesie, erano, certo, erano cosiddette prostitute in un certo senso, però di solito venivano mantenute da quei due o tre ricchi nobili della città ed erano molto ambite perché non erano molte le donne all'epoca che sapessero leggere e scrivere bene o che sapessero leggere il latino bene o scrivessero poesie o comunque fossero colte e quindi ho letto, per documentarmi sull'attività delle cortigiane, ho letto un saggio che consiglio, che è veramente molto bello, che si chiama La vita quotidiana delle cortigiane nell'Italia del Rinascimento, veramente bello, quello lo consiglio per documentarsi in generale com'era la vita delle cortigiane all'epoca, insomma, ecco, cosa facevano, che divertimenti avevano, cose di questo genere, ed erano anche discretamente imbroglione le cortigiane, comunque cercavano sempre un po' di raggirare il nobile di turno, ecco, per estorciare un pochino più denaro, cose del genere, insomma, non erano proprio delle donne, delle sante donne, ecco, diciamo. Beh, uno spaccato di vita alla fine del Medioevo in pieno rinascimento, in pratica, no? Giusto? Sì, i primi anni del Rinascimento, diciamo, perché in realtà il Medioevo, secondo quello che abbia studiato a scuola, finisce nel 1494, giusto, con la scoperta dell'America, no? Sì, 1492. 92, è una sbagliata. Diciamo che è il primo rinascimento tra la fine del Medioevo e il Rinascimento, un po' e un po'. Non era tutto rinascimento, non era pieno rinascimento quello di quegli anni lì, però alcuni usi erano rinascimentali, ovviamente non erano più medievali, tipo l'organizzazione dei soldati della guerra era diversa, ci sono le prime armi da fuoco, i moschetti, le bombarde, ci sono i primi cannoni, anche se gli avevano solo i francesi i cannoni, non avevamo proprio niente, non avevamo i cannoni, noi eravamo poveri, non c'erano i cannoni. Però avevamo altri, l'affanteria non è più solo con la lancia, hanno anche i moschetti, per esempio, le prime armi da fuoco. Diciamo che la maggior parte delle volte scoppiava in faccia la gente, però diciamo che erano usati, ecco. E quindi era un po' un'organizzazione un po' diversa della società. Quelle vie di mezzo, diciamo, non Medioevo, ma non Rinascimento pieno. E quindi per farsi un'idea di che cosa poteva essere, ma anche delle... penso che tu parli di entrambe le corti, no? Sia quella mantovana... Sì, sia quella di Mantovana, sia quella di Gonzaga, sì. E quindi per farsi un'idea di queste due corti rinascimentali, perché lo erano già per molti versi da... Sì, sicuramente quella di Gonzaga, sì, perché Isabella d'Este era proprio la regina del rinascimento, quindi quando comincia a esserci lei, quando viene data in sposa a Francesco, c'è proprio una rivoluzione un po' della corte. Lei era molto colta, molto molto, quindi amava anche non solo vestire bene, quindi certi tessuti venivano comprati per gli abiti, però aveva anche un amore per i poeti, anche in generale per i musicisti, organizzava degli spettacoli teatrali. Era una corte molto molto colta quella di Gonzaga. Quella degli Sforza era più... era un po' più, diciamo, sviluppata verso la guerra, ecco, che verso proprio la filantropia, anche se non è che non ci fosse nulla negli corte degli Sforza. C'era anche Leonardo da Vinci in quell'epoca. Compare nel tuo romanzo, Leonardo? Solo una scena. Il punto di vista, essendo del soldato di Ventura, non ho potuto inserirlo proprio bene, però diciamo che viene nominato, come viene nominata anche Beatrice d'Este, ma non è una figura... cioè non ho scelto il punto di vista di Beatrice d'Este, quindi compare in qualche scena del romanzo, in qualche dialogo, ma non più di tanto, perché non potevo inserirlo in un soldato di Ventura, non incontrava, non avrebbe mai incontrato Leonardo da Vinci come non avrebbe mai incontrato, o pochissime volte, Beatrice d'Este, perché, insomma, essendo la moglie del signore di Milano, non aveva motivo di incontrarla. Va bene, non spoileriamolo troppo, perché... Non spoileriamo troppo, però se no non me lo leggono più, questo povero romanzo. Lo devono acquistare, quindi a questo punto possiamo ricordarne il titolo, in modo che lo possano... Aspetta che ho una copia, aspetta che te la faccio vedere un attimo, eh, che secondo ce l'ho qua. Eccolo qua. Questo è il romanzo. Li vedete? Sì, dai. Sì, bella, è una bella copertina. È una bella copertina, molto carina, tra il romanticismo e la guerra, appunto, che, diciamo, che mixa i due elementi presenti nella, in effetti, nella trama stessa. È brava, la Land Editore, devo dire che è una casa editrice che mi piace, sono stati bravi, veramente. Bene, allora, ricordiamolo il titolo, no? La sposa di Vall'Argentina, questo. La sposa di Vall'Argentina, di Giovanna Barbieri, pubblicato da pochissimo da Land Editore, 300 pagine per 16 euro, quindi una spesa assolutamente sopportabile, e un consiglio per una lettura che ha storia, ma anche, come dire, la leggerezza di un romanzo d'amore. Sì, non è solo, cioè, non è simile a un saggio, ovviamente, ho inserito dei protagonisti che non sono veramente esistiti all'interno, però, di un mondo dove gli altri, gli altri, le figure intorno, invece, sono veramente esistite, come Isabella d'Este, Francesco Gonzaga, eccetera, e gli altri, insomma, è anche la casata degli Sforza, ecco, così. Ah, e il libro è disponibile, questo, non solo cartaceo, ma anche digitale, in Amazon, e è disponibile anche in Kindle Unlimited, basta fare l'abbonamento, ovviamente, perché Kindle Unlimited è il suo abbonamento, quindi ci sono, Amazon ha anche parecchi mesi di promozione con Kindle Unlimited, e tante volte sono tre mesi gratuiti, addirittura, poi bisogna abbonarsi, ma i primi tre mesi uno può leggere quello che vuole, ecco, per i nuovi abbonati. Ecco. Va bene, Giovanna, senti, io ti ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Grazie mille a voi, grazie veramente tanto, siete la mia prima intervista, infatti sono ingommata, non sono particolarmente sciolta, sono una roba tremenda, però ognuno ha le sue caratteristiche. Io intanto ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito www.italiamedievale.org e vi do appuntamento alla prossima videopresentazione. Grazie ancora Giovanna. Grazie mille, grazie Maurizio, grazie veramente tanto. Grazie mille, grazie mille, grazie mille.